C'è ragazzi, c'è un canguro al calcione, un canguro incredibile. Un canguro, sì, avete visto proprio bene, è questo. L'animale avvistato nei pressi della diga del calcione in questo filmato amatoriale è stato immortalato da un cittadino nel territorio di Lucignano, ma adesso l'animale si sarebbe spostato verso il versante senese. La competenza per la fauna esotica è la regione toscana. L'esemplare, un canguro wallaby marzupiale che vive in Australia, è stato evidentemente portato in Toscana o addirittura allevato qui. Pare, ma la notizia ancora non trova conferme ufficiali, che ci sia stato già un sequestro presso l'abitazione di una famiglia di origini straniere. Questa specie non è protetta ed è possibile la sua detenzione anche in ambito domestico in tutta Europa, ma in Italia è nell'elenco delle specie pericolose. Il pericolo consiste soprattutto nel fatto che se questi animali vengono infastiditi, potrebbero difendersi scalciando e quindi causare dei danni seri. L'esemplare avvistato sarebbe ancora un cucciolo alto circa un metro e trenta. La sua cattura, assolutamente vietata da parte dei cittadini ma da demandare alle autorità competenti, sarà quindi finalizzata solo alla tutela dell'animale. Guardalo, guardalo, guardalo.